Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di un incidente avvenuto al chilometro 307 si sono formati 8 chilometri di coda in direzione Bologna tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma rallentamenti per curiosi tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, code a tratti tra Pistoia e Il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra Lastra, Signa e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze via Piero Cironi è chiusa per anomalie stradali con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!